La nostra prima di lì con da tappa E' lì cazzo Chi ti ha messo? Potete vedere è stata un po' una delusione l'ha murato tutto Comunque ora andremo a vedere un posto tre volte più grande Guarda che tanto si esce niente Prendiamo al di più raga Ok ragazzi stiamo per entrare nel supermercato Io ti ho la videocamera accesa tutto il tempo Questo è il luogo Un luogo tuttora abitato E Nick il cameraman sta facendo il video Bella ziii Bella ziii Benvenuti al nuovo super show di Salamini Banane Ah pensavo le banane Ma che cazzo ne so Panna montagna Panna montagna Panna sbrava Nick Bellissimo Prima osserviamo le meraviglie di questo posto Mi segua Voi possiamo avere un esemplare di pane integrale Come potete Anche per me Sono da solo Aspetta Oh La mano è in bustata Ma perché? Patata Stragno Una zanzara Questa è 39 Raga infatti Quindi niente coca? Cazzo Questo vici dura Marco Signor Marco Sì Questa è anche lì dentro Gombi Lì Dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.